Questa legge di stabilità è una buffonata perché tutti sono capaci a riempirsi la bocca con le belle promesse perché anche quella che dice che lui ha eliminato le tasse non è vero, le clausole di salvaguardia che erano quelle che facevano scattare l'IVA non l'ha eliminata, l'ha semplicemente posticipata di un anno quindi è una legge di stabilità elettorale, è una campagna elettorale lui fa le promesse, ci saranno alcune cose che verranno in vigore ma verranno solo per il 2016 non ha assolutamente la lungimiranza che invece deve avere un politico perché un politico serio deve pensare ai propri figli e fare quelle azioni che garantiscono ai figli un futuro decoroso e invece lui cosa fa? Fa le marchette, fa le mance a carico del debito pubblico tutti sono capaci di spendere facendo debito, questa è una norma essenziale ma a quanto pare il nostro premier Renzi non l'ha ancora capita perché a lui interessa solo la campagna elettorale